Una manovra preoccupante, così Confartigianato definisce la legge di bilancio partorita dal governo. Un rientro dalle festività non proprio sereno, quello del presidente Davide Galli. Se da un lato restano bene in vista le istanze lanciate prima di Natale, grandi opere da sbloccare, più attenzione al welfare aziendale, più determinazione sulla flat tax, più leggerezza burocratica, dall'altro ecco affacciarsi i dubbi su alcune novità ancora tutte da definire. A turbare i sonni dell'Associazione di Via Milano sono in particolare il nodo pensioni e il reddito di cittadinanza. Quota 100, ovvero il nuovo regime che aprirà la prima finestra nel mese di aprile per i lavoratori di 62 anni con 38 di contributi, rappresenta, secondo Galli, il proverbiale fuori programma. Come potremo pianificare l'attività 2019 delle nostre aziende senza sapere quali e quanti dei nostri dipendenti usciranno di scena entro l'anno? Problema collegato ai benefici del reddito di cittadinanza, così come recentemente annunciati. Leggo di possibili ritorni a vantaggio dell'impresa legati alle assunzioni di coloro cui spetta il sussidio. Ebbene, di cosa si tratta esattamente? Come è possibile organizzare gli organici e programmare le assunzioni senza conoscere più a fondo queste iniziative? Infine, ecco spuntare lo spettro elettorale. In primavera voteremo per le europee? Dobbiamo forse aspettarci qualche sconvolgimento degli assetti di governo? Un ennesimo cambio di passo? O, peggio ancora, una serie di provvedimenti pensati più per la pancia che con la testa? Domande, quelle di confrattigianato, che inaugurano il nuovo anno all'insegna dell'incertezza, il che, in economia, non è mai un bel viatico.